Ciao a tutti ragazzi, oggi parliamo delle Petzl Quark, ovvero delle piccozze più polivalenti di casa Petzl e adesso insieme ne guardiamo pregi e difetti all'interno della recensione completa Iniziamo come al solito dal peso di queste Petzl Quark queste due piccozze accessoriate sia con martello che con paletta pesano 550 grammi l'una Iniziamo poi da qualche caratteristica, appunto come dicevo abbiamo le piccozze con o paletta o martello in base a quello che vogliamo scegliere, ma non solo perché ci sono tanti accessori che si possono andare ad aggiungere come dei martelli più piccoli, delle altre palette, eccetera Volendo, se invece non vogliamo avere nessuno di questi accessori perché magari dobbiamo utilizzarli per fare delle cascate di ghiaccio le piccozze senza accessori pesano 465 grammi Inoltre possiamo anche andare ad aggiungere nella parte anteriore dei piccoli pesi per andare a bilanciare meglio la piccozza e farla penetrare meglio nel ghiaccio Visto che stiamo parlando di parte superiore per quanto riguarda anche la lama La lama data in dotazione è la Ice di Petzl Devo dire, è una lama con la quale mi ci sono trovato bene Praticamente l'ho utilizzata sia per farci un po' di dry touring a puntarla nel ghiaccio e devo dire che mi sono trovato abbastanza bene in entrambi i casi C'è da dire che l'Ice è diciamo una lama un pochino tuttofare Poi ci sono delle lame molto più specifiche di casa Petzl come può essere la Pure Dry oppure la Pure Ice apposta per fare o delle cascate oppure del vero dry touring Per quanto riguarda il manico invece troviamo un manico idroformato che ha un ottimo bilanciamento tra essere dritto ed essere curvo Vi spiego meglio È abbastanza curvo per il quale riusciamo a utilizzare la piccozza anche per fare delle cascate di ghiaccio Riusciamo a utilizzarla per fare dei canali belli ripidi Ma allo stesso modo non è proprio così curvo come una piccozza pura da cascata di ghiaccio Ci permette di poter utilizzare anche diciamo come bastoni dritto Tenuto sempre conto che comunque sono delle piccozze lunghe 50 cm E utilizzarle come piccozze da alpinismo classico ve lo sconsiglio Riusciamo però a utilizzarle veramente molto molto bene Quando andiamo in progressione diciamo a quattro zambe utilizzando le piccozze come progressione delle braccia Per attraversare dei canali abbastanza ripidi Davvero devo dire che ha un ottimo bilanciamento Cioè questa curvatura che le hanno fatto è veramente particolare ed ottimale Allo stesso modo poi il manico innanzitutto è certificato tipo T Quindi comunque possiamo utilizzarla anche come corpo morto Altra cosa è che quando andiamo a utilizzarle impugnandole nella parte superiore Quindi veramente quando troviamo dei canali belli ripidi Devo dire che sono fatti veramente molto bene La forma che gli è stata data ha una concatura proprio dove c'è la parte di curvatura E devo dire che andandole impugnare lì anche con dei guanti belli grossi La piccozza non scivola si riesce a fare una buona pressione Si riesce a progredire molto facilmente Davvero devo dire che come manico è stato pensato veramente molto molto bene E poi se invece dovessimo impugnarla nella parte inferiore Anche qua c'è un mondo Perché innanzitutto troviamo un'impugnatura in gomma Quindi ottima sia per il grip ma anche perché comunque ci isola dal freddo Abbiamo poi sull'impugnatura un accessorio che è dato di serie Il pezzo la chiama Trigger Rest Praticamente è un piccolo accessorio che ci aiuta a impugnare la piccozza Soprattutto quando dobbiamo andare a fare cascate di ghiaccio e canali molto molto ripidi Molto interessante poi questo accessorio perché praticamente andando a sollevare la parte arancione Possiamo anche decidere l'altezza Quindi volendo possiamo modularlo in base alla grandezza della nostra mano Alzarlo completamente se non dovessimo averne bisogno O comunque metterlo nella giusta posizione nel momento in cui dobbiamo andare a impugnare la piccozza Diciamo dal manico, dalla parte superiore dell'impugnatura Veramente semplice, è un meccanismo tanto semplice quanto efficace E soprattutto ci permette questo meccanismo di poterla adattare In base ai tipi di terreno che andiamo ad affrontare Nella parte inferiore invece abbiamo un altro accessorio fornito da Petzl Il Grip Rest Che non è altro che un accessorio nella parte inferiore che ci evita che la mano vada a scivolare in basso Di poter perdere la piccozza È comunque fatto in plastica molto semplice Devo dire che comunque svolge un ottimo lavoro Poi volendo se dovessimo utilizzare una piccozza proprio per piantarla nel ghiaccio come bastone Basta semplicemente tirarlo su e praticamente vada ad attaccarsi al manico e non ne sentiamo più la presenza E poi se dovessimo utilizzarla proprio come bastone Nella parte inferiore è presente il classico puntale Che ci aiuta appunto ad andare a utilizzare la piccozza come bastone per progressione Ma arriviamo dunque alle conclusioni per queste Petzl Quark Iniziando soprattutto dal prezzo Vengono vendute all'incirca a 180 euro l'una Quindi considerato che se dovessimo fare canali, cascate di ghiaccio eccetera Dobbiamo prenderne due Dobbiamo tenere un conto in una spesa di 360 euro più o meno Ve le consiglio assolutamente sì Innanzitutto per i materiali Fatte veramente molto molto bene Un ottimo materiale comunque fatto con l'acciaio tutta la parte superiore Una lega d'alluminio il manico Per quanto riguarda gli accessori Beh devo dire che se ne trovano tanti Già di serie E soprattutto il catalogo di Petzl ha un sacco di accessori compatibili Per andare a personalizzarcela come più vogliamo Ma la cosa che veramente mi ha stupito di queste piccozze è la sua polivalenza Veramente possiamo utilizzando queste piccozze andare a farci Da dell'alpinismo su dei canali non troppo ripidi Fino a delle cascate di ghiaccio Quindi veramente comprando una singola piccozza potremmo utilizzarla in tantissimi ambiti Ed è veramente eccezionale come aspetto Perché già la spesa che andiamo ad affrontare non è indifferente 360 euro non sono pochi Però almeno possiamo utilizzarle in tantissime tantissime uscite E soprattutto ci dureranno tanti tanti anni E detto ciò ragazzi Una speranza sia stato esaurante e esaurante anche per questa recensione Vi ringrazio della guardata E noi ci vediamo alla prossima Ciao